Musica Ragazzi io mi sento veramente fortunatissimo ad aver potuto assistere live a queste battaglie epiche di questi eroi che erano definiti così i piloti di Formula 1 del 1991 insomma di quelle annate in cui le automobili non avevano tutte quelle protezioni che oggi hanno i piloti di Formula 1 delle emozioni veramente che erano trasmesse da quello che era lo sforzo prima di tutto umano che davano questi piloti di Formula 1 e soprattutto perché ci mettevano il corpo e l'anima per cercare di ottenere il massimo risultato possibile e questo è un po' lo spirito che regna nella comunità di SimDrivers e soprattutto nello staff per cercare di offrire dei campionati e degli eventi che siano degni di questo nome ma la nostra vittoria non è arrivare primi al podio ma è quello di poter ottenere il massimo divertimento rispetto a quelli che sono gli eventi che organizza appunto la nostra comunità e soprattutto cercare di ottenere un massimo di amici possibili in più ogni volta che si organizza un campionato, un evento o una for fun quindi ragazzi su questa stessa enfasi e emozione presento oggi il campionato Scream Formula 1 1991 in stretta collaborazione con ASR Formula di Alessandro Michali per debuttare la stagione 2021-2022 dei campionati ed eventi di SimDrivers.eu ragazzi quindi quale miglior occasione per correre su un Air Factor 2 che ormai domina un po' la scena di quello che è stata la comunità di SimDrivers non solo ragazzi però Air Factor 2 è il nostro core business lo sapete quindi vi invito caldamente a venire ad iscrivervi a questo campionato che debutterà a settembre tra poco ragazzi una quindicina di giorni con una formula abbastanza particolare interessante in cui c'è una prequalifica che andrà a stilare una classifica di quelli che sono i piloti suddivisi in due categorie Pro e Gentleman in cui i pro parteciperanno il venerdì a delle gare stilate su un calendario ben predefinito e stessa cosa per i Gentleman però il giovedì entrambi per squadra e ognuno per piloti ci sarà un monte premi come al solito e vediamo se riusciamo ad inserire qualche altra cosa, qualche sorpresina ci stiamo lavorando su le iscrizioni sono aperte come al solito trovate tutto su SimDrivers.eu e fate attenzione a leggere bene ogni singola riga perché c'è anche un piccolo quiz Scream & Giants Formula 1 1991 diamo l'inizio alla stagione 2021-2022 degli eventi di SimDrivers.eu stay tuned ragazzi perché è solo l'inizio, abbiamo un programma fantastico quindi come al solito ragazzi se questo video vi è piaciuto pollice in su non esitate a commentare, andate ad iscrivervi al campionato che vi aspettiamo ragazzi perché ci saranno uno o due server in base anche alle iscrizioni iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio, ciao! 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 Ciao!